Comunque, lei di fatto è un po' un dépliant vivente della sua professione, si è rifatto praticamente tutto, no? Addominali, glutei, schiena, braccia, pettorali, coscio, orecchie, mascella, capelli, più una serie di posizioni, penso 6-7, non lo so. Per ottimizzare i tempi, per fare prima, dico, che cosa non si è rifatto? Cioè, con cosa c'ha lei che... Di vero? Di vero, i denti del giudizio? Di vero, no, di vero avevo i denti e domenica scorsa, sabato scorso, li ho rifatti, quindi... Ah, tutti nuovi pure quelli. I denti erano rimasti e niente. Lo sai perché li ho dovuti mettere? Perché quando... Io ho anche degli studi dentistici, ho donto gli atriti, una catena di studi, e quando andavano a fare i denti i clienti dicevano, eh sì, però Urtis non ce li ha, e quindi alla fine li ho dovuti mettere, perché se no sembrava che... Che non li consigliava. Eh, vendeva una cosa che non... Le tonsille sue c'è là, che c'è. Le tonsille è l'unica cosa che non mi hanno tolto, sì, perché ho paura. Senta, ma lei non è mai stato scontento, cioè, dopo aver... dopo essere intervenuto su qualcosa, no? Non ha mai avuto questa sensazione di dire, era meglio prima? Sempre. Sì? Sì. Sono un'infelice dentro, anche se all'esterno non è così, io sono sempre felice. La gente dice, ma Giacomo, ma come fa ad essere sempre felice, sempre sorridente? In realtà dentro, sono sempre scontento. Ma lei non ha paura di guardarsi un giorno allo specchio e di non riconoscersi più, di non sapere più chi è lei? Sì, ma già non mi riconosco, molte volte mi guardo nelle foto e dico, ma questa è una... No, sono io, mi capita, sì, fa strano. E questo effetto che non è straniante? Sì, fa strano, sì. Anche dell'ascensore, l'altro giorno sono andato nell'ascensore, mi sono guardato allo specchio e ero diverso rispetto a quello che... Ma ci si abitua tutto nella vita, mi abituerò anche a questa nuova... a questo nuovo mood, diciamo. Non è una cosa che le crea un malessere, un disagio? No, 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 sono felice. Se io ho cambiato, ho cambiato era per essere un po' più felice. E' felice. Sì.